In questa parcella vediamo RGT Leondur, una nuova varietà di grano duro, dal profilo qualitativo molto interessante, però come possiamo vedere con un ottimo potenziale produttivo, una bellissima fertilità della spiga, si presenta in campo comunque anche con un'ottima tolleranza alle malattie, abbina a delle ottime qualità reologiche sia da un punto di vista di contenuto proteico ma anche come indice di glutine e colore, ha un'importante produttività che comunque consente all'agricoltore di raggiungere delle redditività e delle PLV a etero molto molto interessanti. Punto di forza anche della varietà è l'ottima tolleranza alla fusariosi. In questa parcella vediamo RGT Monte Carlo, grano tenero di qualità panificabile superiore, un ottimo produttore ciclo medio medio precoce, ha tra le sue caratteristiche come dicevamo il ciclo che gli consente di andare anche in terreno dove abbiamo bisogno di anticipare un po' la raccolta, ottimo produttore, entra anche per le sue qualità reologiche quindi come W e Pissuelle nella carta del munito. In questa parcellone vediamo Rubisco, varietà tra le prime al nord Italia per produttività, ottima tolleranza all'allettamento, sostanzialmente è un'ottima tolleranza alla fusariosi, veramente un gran produttore, si caratterizza anche da un punto di vista aerologico per avere un Pissuelle molto molto basso che lo rende molto appetibile per le filiere e per i mulini.